Sono partecipanti alla tavola rotonda in piedi perché non conosco fisicamente tutti i partecipanti. Giovannini l'ho riconosciuto, c'è e non so a questo punto chi manca. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Ormai sono molti anni che le strategie globali regionali si fondano su sistemi di indicatori in cui gli obiettivi e sotto obiettivi sono definiti attraverso target che riguardano indicatori, misure. Quindi in coincidenza con la definizione delle strategie e naturalmente nel monitoraggio dei progressi con i quali le realizziamo il tema degli indicatori è straordinariamente importante della qualità delle informazioni. e quindi devo dire che l'agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi, 169 sotto obiettivi e oltre 200 indicatori ci ha davvero intimidito perché rappresenta una sfida straordinaria per gli istituti nazionali statistiche. Del resto non poteva che essere così considerata l'azione globale che si vuole realizzare nei prossimi 15 anni. E devo dire che il quadro che emerge da quegli obiettivi è straordinariamente bello, disegna una società, un pianeta davvero diverso da quello che abbiamo. Quindi questi indicatori riguardano traguardi straordinariamente importanti capaci di ridurre le differenze che ci sono sul pianeta, soprattutto con riferimento all'Africa, alle piccole isole. E naturalmente al di là dell'importanza che hanno sul piano globale, oggi e in futuro, sono naturalmente una straordinaria occasione anche per i paesi più evoluti e quindi per l'Unione Europea e il nostro paese. Quindi poi ci sono strategie nazionali all'interno di questo quadro generale che rappresentano altrettanti elementi di grande importanza. Ecco, noi siamo coinvolti come Istituto Nazionale Statistica, come Sistema Statistico Nazionale, direttamente in questo percorso di monitoraggio. E quindi la costruzione del sistema informativo è una grande sfida per il sistema statistico mondiale. E ci siamo dotati anche di strumenti di programmazione. E quindi abbiamo definito una strategia, un piano d'azione globale attraverso il Cape Town Global Action Plan, proteso appunto a stabilire le azioni necessarie per modernizzare e rafforzare i sistemi statistici nazionali e globali. Certo, anche l'obiettivo di rafforzare le capacità dell'autorità statistica nel mondo è un obiettivo importante. Quindi c'è poi un'occasione per la nostra comunità all'interno di questo programma globale. E l'Istat è impegnato nella realizzazione effettiva del Global Action Plan nell'ambito del Sistan, ma anche in ambito internazionale, lavorando a fianco della divisione statistica delle Nazioni Unite e offrendo le sue competenze tecniche nelle attività di capacity building di altri sistemi statistici nazionali. Per l'altro parto domani per New York e la prossima settimana parteciperò a un confronto che abbiamo voluto fortemente come istituto. Quest'anno ha la sua prima edizione tra i policy makers, altri stakeholders e gli istituti di statistica che è stata organizzata in occasione del High Level Political Forum on Sustainable Development, che è la piattaforma guida e monitoraggio dell'agenda del 2030, di cui sono membri, capi di Stato e di Governo di tutti i Paesi. Bene, a partire da dicembre 2016 abbiamo reso disponibile con cadenza semestrale molti indicatori per l'Italia sulla piattaforma informativa dedicata agli SDGs sul nostro sito dell'Istat. E quest'anno, in questa occasione, insieme al nuovo rilascio, presentiamo questo primo rapporto sugli SDGs. L'idea è quella di descrivere in modo accurato i processi che hanno condotto la scelta degli indicatori, gli indicatori, in modo puntuale, è una prima analisi delle tendenze temporali, dell'interrelazione che ci sono tra i diversi fenomeni. E quindi ci tengo a sottolineare che sia la produzione degli indicatori che le analisi sono il frutto di collaborazioni all'interno del system, e questo è già un risultato di per sé importante. Ma il vero risultato che ci attendiamo, naturalmente, è quello a valle del rapporto riguardo all'utilizzo di questo quadro informativo. Questa è davvero la sfida più importante, quella di riuscire a fare passi in avanti per comprendere le relazioni che ci sono tra gli obiettivi e soprattutto le determinanti degli indicatori e gli effetti a valle dei fenomeni che rappresentano. Naturalmente c'è oggi questo nuovo rilascio, ma lo stato dell'arte non è quello definitivo, e quindi anche se questo pacchetto di indicatori è ormai certamente corposo, c'è ancora un gap da colmare. D'altra parte in tutti i paesi siamo in un tragitto, in un percorso che punta a una copertura sempre maggiore che avremo nel tempo. Quindi c'è una discrepanza, in qualche modo naturale, tra gli indicatori proposti in sede internazionale e l'insieme delle misure proposte dall'Istat, che peraltro comprendono anche fenomeni di interesse specifico del nostro paese. Stiamo lavorando con diversi attori istituzionali, alcuni dei quali sono presenti, per definire un quadro di informazione adatto soprattutto al monitoraggio della strategia nazionale. Quindi siamo protesi per produrre informazioni statistiche in modo sempre più ricco, naturalmente garantendo le disaggregazioni necessarie per analizzare in profondità i fenomeni sottostanti e nel pieno rispetto dell'obiettivo fondamentale del no one left behind, stiamo investendo da un punto di vista tematico e metodologico per consentire di rispondere alla domanda informativa globale, nazionale e territoriale. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a tutti di essere qui insieme. Io se riesco... ecco, ce l'ho fatta. People, planet, prosperity, peace and partnership. Io partirei da qui, perché sono veramente le parole chiave degli SDGs e parto da qui perché credo che sia importante sottolineare il fatto che si riferiscono a questioni molto, molto concrete che riguardano la vita di tutti quanti noi e questo, diciamo, dà valore a questo piano globale e prendono in considerazione, e che devono essere letti basandosi, e che una, diciamo, delle chiavi fondamentali dei Sustainable Development Goals è proprio quello di considerare i diversi aspetti nelle loro interconnessioni e nelle loro interazioni. Ci tengo anche a dire che ci sono degli aspetti concreti molto precisi perché quando si parla di prospettiva globale integrata, anche sulla base delle mie recenti esperienze, posso dirvi che questo significa che i paesi nel mondo prendono in considerazione i Sustainable Development Goals, i governi dei paesi e gli uffici di statistica sono poi, diciamo, chiamati a produrre informazione in questo senso e questo ha un effetto concreto, quindi al globale al nazionale, il globale significa in concreto proprio questo, così come sono sinceramente convinta che abbia un'importanza la frase abbastanza storica what we measure affects what we do cioè la produzione degli indicatori condiziona la nostra vita può condizionare la nostra vita ed è proprio a partire da questo che, diciamo, è proprio questo uno dei punti, diciamo, a mio parere cruciali di questo grossissimo lavoro internazionale e nazionale oggi presentiamo la quarta diffusione degli indicatori SDGs e il primo rapporto degli SDGs del panorama internazionale il Presidente già ci ha fatto cenno io ci tengo a sottolineare che ovviamente oltre alle azioni sviluppate nell'high level group e quindi all'adozione del Cape Town Global Action Plan si è mossa, diciamo, è importante fare riferimento a quello che è il framework internazionale sviluppato dal UN Interagency Expert Group che ha proposto dal 2016 oltre 230 indicatori che sono e continuano ad essere in assoluta evoluzione cioè si sta ancora lavorando sui metadati e quindi è un processo in evoluzione nell'ambito dell'ultima sono riunioni biennali e attività che è in corso anche, diciamo, via web e, diciamo, il gruppo si sta preparando alla prossima revisione che è il 2020 anche con la discussione di altri 37 indicatori o alle considerazioni da fare in merito anche ad alcuni indicatori per esempio sui quali c'è ancora una certa difficoltà a definire la metodologia ci sono ovviamente anche attività a livello europeo quindi la UNECE Roadmap ed Eurostat ha svolto diverse attività in merito per la Commissione Europea e quindi ha diffuso un report a novembre e un altro ne diffonderà tra qualche mese ci tengo anche a dire che a livello UN è appena uscito anche la nuova piattaforma mondiale in occasione proprio delle attività della settimana prossima quindi è appena uscita la nuova piattaforma degli indicatori che cosa ha fatto l'ISTAT l'ISTAT è partito appunto dalle parole chiave e ha cercato e con lo spirito proprio di conciliare la prospettiva globale integrata con le esigenze specifiche del Paese in un approccio concreto e progressivo questo con tutti quanti voi molte di quali ho collaborato in questi due anni significa appunto lavorare insieme in sinergia nel SISTAN e quello che è stato costruito è frutto delle attività di tutti quanti hanno appunto collaborato io qui ho citato in particolare ISPRA il Ministro dell'Ambiente il Ministero degli Esteri il MIUR, il GSE ma diciamo sono veramente tanti gli attori istituzionali che hanno collaborato e si tratta di un'evoluzione di una piattaforma comunque in evoluzione chiaramente alcune tematiche cambiamenti climatici cibo, suolo e mare richiedono ancora uno sviluppo delle attività ma questa è nel contempo una sfida ma un'opportunità sia per la statistica ufficiale che per il Paese e ripeto questo avviene anche a livello globale diciamo sono sfide che vengono poste ma che hanno diciamo sono un ottimo incentivo per andare avanti su tematiche importanti nel principio mantenendo sempre il principio del no one left behind questa è la quarta diffusione degli indicatori il primo rapporto rendiamo disponibili oggi 235 misure statistiche per 117 indicatori SDGs ed è aumentata la percentuale di indicatori che sono presenti con disaggregazioni territoriali e questo è un altro aspetto importante perché diciamo il filo conduttore delle attività del volume degli SDGs è proprio dal globale al nazionale al regionale locale per guidare in concreto le politiche o le attività anche di ognuno di noi che possono essere utili per la nostra vita presente e futura nella slide che segue la slide che segue fa riferimento al fatto che siccome si tratta proprio di un processo in evoluzione in costruzione è importante aver presente che ci troviamo che attualmente ad esempio 83 misure sono identiche a quelle proposte da UN 96 sono parziali o simili quindi diciamo abbiamo cercato di declinare al meglio e abbiamo anche le restanti 56 misure che sono inserite proprio per fornire ulteriori elementi di comprensione specifici per il contesto nazionale quindi un processo in evoluzione che tiene conto del framework internazionale ma che ovviamente lavora sul contesto nazionale e nell'ambito del rapporto abbiamo anche avviato un'analisi dell'andamento tendenziale nel lungo termine ultimi dieci anni e nel medio termine per alcuni indicatori il lungo termine dieci anni è poco questo per alcuni indicatori non è neanche sufficiente però diciamo abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione su due periodi perché appunto una delle questioni legate a questi indicatori che sono veramente le tematiche sono molto varie e gli indicatori di conseguenza che le misurano sono altrettanto varie con esigenze diverse da quelle più congiunturali a quelle più diciamo di andamento tendenziale per le quali è necessario considerare l'andamento tendenziale a lungo nel tempo una prima buona notizia è che dell'analisi dell'andamento tendenziale dal 2006 ad oggi è aumentata la disponibilità di informazione statistica in ambito SISTAN perché la variazione rispetto ai dieci anni precedenti è analizzata per il 66,4% degli indicatori mentre invece per gli ultimi cinque anni è stato possibile analizzarla per il 94,5% degli indicatori quindi è bene che continuiamo a lavorare tutti insieme in ottica nel sistema per produrre e andare avanti sempre dall'analisi dei sviluppi tendenziali si possono iniziare a vedere appunto sviluppi tendenziali si individuano sviluppi tendenziali positivi di lungo periodo con riferimento agli obiettivi di istruzione di qualità ad esempio industria innovazione consumo e produzione e analizzando i due periodi 2006-2011 2011-2016 in concreto si diciamo appare abbastanza evidente la differenza tra il periodo che contiene la crisi e quello post recessivo non entro nel dettaglio perché non ho il tempo nell'ambito del volume abbiamo dedicato ad ognuno dei 17 goal una scheda in questa scheda una sezione nell'ambito di questa sezione sono contenute le informazioni sugli indicatori internazionali e nazionali ed è sviluppata un'analisi di questi indicatori ma appunto il punto fondamentale è sempre tenendo presente questo spirito dal globale nazionale sono 17 schede andrò abbastanza veloce la prima ovviamente è sulla povertà ed è importante appunto anche in questo caso aver presente che esempio parlare del fatto che nel 2016 118 milioni di persone pari al 23,5% della popolazione dell'OE erano a rischio di povertà o esclusione sociale in Italia a rischio di povertà la popolazione a rischio di povertà è il 30% però ripeto per ognuno di questi goal l'aspetto importante è questa analisi globale nazionale territoriale il goal 2 per esempio è un goal che presenta due dimensioni fondamentali una è legata alla malnutrizione e una è legata all'agricoltura ed è un esempio di quelli per cui diciamo il goal si chiama fame in realtà contestualizzandola in Europa il punto è quello per quanto riguarda noi è la malnutrizione e quindi l'indicatore è prevalenza dell'eccesso di peso nella popolazione italiana e appunto l'indicatore fa riferimento al fatto che in Italia un bambino su tre è sovrappeso altrettanto importante però la dimensione agricola è importante per esempio parlare del fatto che la quota che la superficie agricola investita è aumentata nell'arco dei dieci anni il goal 3 diciamo per riferimento al goal 3 per esempio il tasso standardizzato di mortalità per tumori e diabete malattie particolari è in costante diminuzione gli indicatori del goal 3 in realtà sono in buona misura diciamo esprimono delle tendenze anche il tasso di mortalità per incidente stradale è in diminuzione anche se ci sono delle particolarità legate alle classi di età il goal 4 istruzioni di qualità gli ultimi dieci anni hanno portato un diffuso avanzamento sul fronte dell'istruzione inclusiva quindi in Italia il 26,9% dei giovani possiede un titolo terziario abbiamo raggiunto l'obiettivo nazionale Europa 2020 però sono ampie le differenze territoriali e di genere e il livello del tasso rimane molto al di sotto della media europea goal 5 le donne un esempio per tutti cioè diminuisce la violenza contro le donne ma ne aumenta la gravità e rimane stabile la violenza estrema questo poi diciamo vedremo nel goal 16 che segue e anche voglio precisare che nell'ambito delle analisi effettuate parecchi indicatori sono stati analizzati considerando appunto le disaggregazioni per genere proprio per mettere in evidenza le questioni legate ai divari di genere emergono segnali positivi per quanto riguarda la presenza delle donne nei luoghi decisionali e politici anche a livello diciamo questa è una slide che fa riferimento al contesto europeo acqua è un problema abbiamo un indicatore relativo all'efficienza delle reti di distribuzione e impeggioramento questo è uno dei tanti indicatori non è l'unico ovviamente energia quota di energia da fonti rinnovabili l'apporto da fonti rinnovabili è molto differenziato a livello geografico vedete a livello globale a livello europeo nei due grafici che sono presenti e anche a livello nazionale il grafico delle regioni l'Italia ha recuperato una posizione in ritardo rispetto ad altri paesi europei raggiungendo sin dal 2014 il target del 2020 al 17% negli ultimi due anni si è registrato un rallentamento della crescita occupazione vabbè tantissimi indicatori legati all'occupazione vado oltre non mi soffermo gol 9 infrastrutture innovazioni ricerca ecco ci siamo concentrati sugli indicatori legati all'intensità di ricerca e al numero di ricercatori e pare evidente che a livello globale abbiamo una polarizzazione legata a un rispetto numero di aree geografiche in cui prevalgono economie elevata intensità di ricerca e d'altro canto per sviluppi ci sono certamente a livello nazionale c'è da fare e sicuramente è una delle leve può essere una delle leve per il nostro futuro gol 10 disuguaglianze per esempio appunto nel 2016 l'Italia con il 19% reddito disponibile per il 40% più povero della popolazione e al di sotto della media europea le città le città meritano un discorso a parte diciamo abbiamo un gol 11 ricchissimo di indicatori anche molto eterogenei tra di loro il punto di tutte le attività presenti a future per quanto riguarda lo sviluppo degli indicatori sostenibili sarà proprio quello una delle sfide di cercare di produrre più indicatori a livello territoriale disaggregato per le città e puntare su questo e qui diciamo appunto alcuni indicatori scelti sono quelli legati all'esposizione all'inquinamento atmosferico e ai rifiuti urbani 12 abbiamo scelto di concentrarci in questa slide sul consumo di materiale interno il consumo di materiale interno è 5 volte la media mondiale in Asia in alcune parti dell'Asia in Italia abbiamo una diminuzione se vogliamo una posizione buona rispetto all'Europa non c'è un eccessivo consumo di materiale interno siamo in una posizione diciamo se vogliamo virtuosa c'è stato un calo dal 2007 al 2014 con un leggero incremento negli ultimi anni che forse è anche una buona notizia nella cattiva notizia però 13 il gol legato ai cambiamenti climatici tra l'altro è un gol per il quale c'è molto dibattito a livello internazionale anche nella scelta degli indicatori e ce ne sarà nelle prossime riunioni anche a livello globale UN e in questo caso è stato scelto l'indicatore legato alle emissioni di gas serra l'Italia si posiziona al di sotto della media europea e i grafici fanno riferimento al decoupling tra le emissioni e il PIL e anche alla questione legata al fatto che le emissioni in parte cioè sono dovute non semplicemente all'attività produttiva ma anche alle famiglie andrò rapida gol 13 anche per dire che poi alcuni di questi gol 13 14 15 6 hanno diciamo beneficiato in particolare delle attività svolte in ambito di sistema statistico nazionale gol 14 mare gol 15 terra non non vado non approfondisco le questioni ma appunto in questo caso si parla di ecosistemi si parla di biodiversità ad esempio gol 16 ritorniamo a peace pace e giustizia ed uno dei punti ad esempio riferendoci alle questioni citate precedentemente si riduce il tasso degli omicidi nel corso degli anni ma nel caso delle donne il tasso rimane stabile e questo diciamo è uno degli elementi che per esempio mette in correlazione gol 5 è gol 16 giusto per fare un esempio pratico e l'ultimo gol 17 per il quale l'attenzione è concentrata sull'aiuto pubblico allo sviluppo nella slide ma diciamo nelle sezioni del volume è molto più ricca sono quasi alla conclusione per dire che appunto è importante analizzare le misure statistiche in una prospettiva globale integrata e leggere le interconnessioni abbiamo quindi avviato queste analisi delle interconnessioni una di queste è quella che si è basata sull'analisi dei grafi delle informazioni contenute nei metadati UN e qui in questo grafo per esempio si vedono le interrelazioni tra alcuni goal descritta tramite le interrelazioni tra gli indicatori oppure un'altra modalità è quella di considerare le fonti dei dati comuni e questo è importante queste sono alcune delle fonti altre ovviamente diciamo quelle di Isbra o quelle ambientali eccetera possono essere analizzate nella stessa maniera e questo è importante anche per aiutarci nelle analisi che possono essere fatte a riguardo quindi statistiche per misurare SDGs una sfida globale e grande opportunità di innovazione continueremo tutti insieme a sviluppare indicatori e a produrre informazione statistica utile per il system e per il paese per ognuno di noi consentitemi un altro minuto solo per ringraziare le diciamo chi del system e i colleghi che hanno lavorato in questi anni e Better Statistics for Better Life è qualcosa di concreto gli SDGs in realtà sono qualcosa di concreto grazie grazie Angela per questa breve carrellata di un rapporto molto ricco e di un sito informativo sempre più interessante allora iniziamo adesso la seconda parte della sessione abbiamo organizzato una tavola rotonda e quindi vorrei innanzitutto ringraziare i nostri ospiti che hanno accolto il nostro invito oggi in conferenza il dottor Sergio Mercuri ministro plenipotenziario del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la dottoressa Mara Cossu del ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Enrico Giovannini portavoce dell'ASVIS professore Tor Vergata ed ex presidente dell'ISTAT ministro del lavoro ministro del lavoro abbiamo in collegamento Angela della me dall'ufficio delle Nazioni Unite e abbiamo con noi anche la professoressa Monica Pratesi presidente della società italiana di statistica la tavola rotonda sarà moderata dalla dottoressa Claudia Voltattorni che saluto giornalista del Corriere della Sera prego allora intanto buongiorno a tutti ringrazio l'ISTAT per questa questa bella mattinata e ringrazio in particolare la dottoressa Ferruzza per il suo lavoro che per ragioni di tempo è stato dovuto è stato rappresentato proprio una breve direi giornalisticamente però insomma è frutto di un lavoro di oltre due anni di insomma ricerche insomma e quindi è un lavoro prezioso e veramente fondamentale io credo che sia disponibile sul sito dell'ISTAT quindi insomma invito tutti a andarsela a vedere perché ogni pagina è molto preziosa e adesso volevo intanto prima di tutto dare la parola al dottor Sergio Mercuri proprio per avere un'idea a livello internazionale che cosa si sta facendo e dopo che abbiamo visto insomma più o meno velocemente insomma la situazione italiana e quindi insomma prego grazie grazie presidente Aleva grazie a DISTAT per questa opportunità concessa al ministro degli esteri di essere presente in occasione della presentazione del rapporto effettivamente io posso parlarne in termini di sua rilevanza sul piano internazionale non certo da un punto di vista dei contenuti statistici e dirò subito che la tesi che cercherò di sostenere questa si tratta di un magnifico strumento per l'Italia di relazioni internazionali dico per l'Italia perché giustamente è stata questa la scelta anche editoriale che è stata adottata non in Italia ovvero una presentazione molto ampia di capacità oltre che di contenuti sotto il profilo della misurazione e della capacità statistica e per capire questo potrà sembrare banale è uscito un rapporto ovviamente ce ne si avvale ma bisogna fare forse un passo indietro e pensare che cosa vuol dire questo nella comunità internazionale la comunità internazionale l'ordinamento della comunità internazionale è tradizionalmente uno dei meno sviluppati uno dei più rudimentali ordinamenti che vi sia la sua particolarità è quella di basarsi spesso su elementi consuetudinari su trattati convenzionali raramente ci si affida a fonti statistiche a dati a informazioni concrete il decision making la governance internazionale finisce per essere un qualche cosa di altamente inefficiente sicuramente e spesso anche come sappiamo inefficace Agenda 2030 cerca di innovare tutto ciò forte di un consenso molto ampio in sede Nazioni Unite ma anche della capacità di coinvolgere cosa che ha manifestato in questi due anni di esistenza tutto l'insieme delle organizzazioni internazionali sia interne al sistema delle Nazioni Unite sia esterne quindi oggi possiamo dire che essa goda di una grande popolarità a livello internazionale non vi è organismo internazionale che io visiti che non trovi tappezzato di riferimenti a SDG a obiettivi quantitativi talvolta innestandosi su una storia pregressa statistica quantitativa e una professionalità interna all'organismo che era già ovviamente in esistenza è il caso dell'ILO ma è il caso anche di UNCTAD ovviamente di ONODC in qualsiasi ambito la scelta come dice il rapporto delle aree tematiche e consentitemi di alleggiare il rapporto anche come grande eccellente mediazione espositiva tra l'originale impostazione di agenda 2030 sul piano globale e l'indispensabile adattamento attuativo riferito a un contesto come quello nazionale italiano non è facile tenere questo registro intermedio quindi dicevo qualsiasi organismo internazionale ha al suo interno sviluppato nel corso degli anni delle capacità molto forti che consentono di dominare un determinata area tematica però l'agenda 2030 è come se ciascuno avesse ricevuto una motivazione ulteriore ad agire nel suo ambito in conformità al framework onusiano ora potrà questo sembrare banale non lo è a livello internazionale perché a livello internazionale come dicevo c'è una rudimentalità degli approcci una settorializzazione inevitabile delle procedure decisionali e non ci si è quasi mai lanciati in qualcosa di così ampio non vorrei esagerare ma lo spirito che c'è dietro ricorda quasi lo spirito che c'è dietro l'agenda 2030 ricorda quasi la scrittura della carta di San San Francisco del 1945 cioè una visione veramente a 360 gradi perché il rapporto è un rapporto che si può considerare uno strumento per le relazioni internazionali dell'Italia in questo quadro di comunità internazionale destrutturata o comunque altamente inefficiente inefficace è evidente che degli riflessi automatici a invocare tendenze aspirazioni e interessi nazionali c'è c'è stato e ci sarà sempre non dobbiamo illuderci che agenda 2030 risolva questi problemi però agenda 2030 fornisce finalmente un framework oggettivo e sicuramente sarà sempre più difficile argomentare in termini divergenti da quanto il dato l'informazione raccoglie io so della critica che in ambito statistico viene mossa da agenda 2030 di avere un'ambizione misurativa eccessiva di voler forse creare troppi indicatori e costringere a ulteriori ricerche dove probabilmente non vi sono ancora nelle risorse nelle capacità e non parlo dell'Italia però rimane il dato positivo di avere uno strumento che equilibri a costruire un baluardo rispetto a una tendenza invece a un decision making basato solo su interessi nazionali è anche un grande strumento di relazioni internazionali perché con questo Istat si va a collocare in un dialogo estremamente elevato fra istituti di pari prestigio presso organismi internazionali importanti e non mi riferisco solo alle Nazioni Unite ma anche a quello che Istat fa in quadro europeo o quello che fa in rapporto a Ocse eccetera e proprio per quanto diceva la dottoressa Ferruzza circa l'evoluzione che è prevista negli anni a venire con le revisioni di Agenda 2030 con la finalizzazione degli indicatori nel gruppo IEG potrà contribuire ad un dialogo che non nascondiamocelo sarà comunque sarà comunque accompagnato da posizioni che rispecchiano degli interessi di singoli paesi questo forse è un discorso che in ambito statistico non si fa solitamente ma consentitolo a chi guarda al rapporto internazionale e vede come talvolta le cose si sviluppano il precedente del decision making in ambito climatico in cui UNFCC quel organismo da cui è scaturito l'accordo poi di di Chioto ha interagito con IPCC con l'International Parliament on Climate Change è un esempio di partire dai dati per arrivare a delle decisioni questo era riferito all'antrepocene il più ampio insieme di norme di comportamenti di target fissati da Agenda 2030 in realtà guardano all'ordinamento internazionale e ai suoi componenti economica sociale e ambientale questa è una grandissima sfida e io penso che abbia con la pubblicazione di oggi del rapporto per noi in Italia un inizio estremamente favorevole grazie alla qualità della raccolta dei dati che sono stati presentati un'ultima cosa vorrei dire perché non sia non ci sia confusione non ci sia un fraintendimento circa la definizione degli accordi e il ruolo degli stati è chiaro che quello di Agenda 2030 è un framework che ha guardato fin dall'inizio non solo agli stati ma anche alla società civile all'accademia alla capacità di ricerca al settore privato ora la graduale introduzione in missione nel sistema decisionale dei nuovi attori è un meccanismo sicuramente di estrema importanza che garantisce l'esito positivo però l'ancoraggio dei dati resta un prerequisito indispensabile il lavoro che ha svolto la società civile in Italia e qui c'è il suo portavoce Giovannini è stato indispensabile io collocherei entrambi questi elementi la pubblicazione dei dati e il ruolo della società civile italiana come strumenti delle relazioni italiane nell'estero grazie per il momento grazie dottor Mercurio ascoltandola mi viene da pensare quindi noi italiani cioè l'Italia è molto più avanti rispetto ad altri paesi sulla produzione di questo tipo di rapporti di questi quando mi trovo in consiglio a Bruxelles quando sono a New York alle Nazioni Unite ma anche in altri organismi internazionali io verifico sempre una grandissima stima nei confronti di Istat per il lavoro che svolge e questo non ci viene detto unicamente per le attività di cooperazione che pure sono importanti che so vengono attuate in precedenza dei miei altri colleghi del Ministro degli Estri ne hanno parlato più diffusamente ma proprio per il coinvolgimento partecipativo in un'attività che è in itinere che non si esaurisce nella singola pubblicazione o nella raccolta dei dati e che contribuisce alla definizione di standard internazionali partecipare è il requisito indispensabile per evitare che poi prevalgano semmai delle visioni di tipo diverso grazie beh insomma c'è da esserne orgogliosi e adesso volevo sentire passare la parola alla dottoressa me che è in collegamento e che è proprio delle Nazioni Unite così ci può raccontare appunto dal lato come dire Nazioni Unite pur essendo italiane come come possiamo leggere questo rapporto questo lavoro italiano e che cosa insomma le Nazioni Unite stanno facendo il suo ufficio prego buongiorno a tutti spero che mi sentiate un caro saluto da Vienna e giusto per così darvi il contesto a Vienna io lavoro al Dipartimento delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e quindi anche il mio intervento diciamo anche se voglio così parlare un po' di qual è l'ambizione che si ha a livello internazionale con gli STG ma anche magari focalizzare su alcune delle aree dove ovviamente la mia organizzazione è particolarmente attiva e prima di tutto vorrei evidenziare cioè qual è il perché siamo così tutti eccitati rispetto a questo STG e beh prima di tutto cioè perché è un prima di tutto è stato un processo molto particolare di coinvolgimento di tutti i paesi e di tutti gli attori quindi i target i goals che sono riflettuti nell'ASTG ed è stato veramente un lavoro di coinvolgimento di tutto non solo degli stati ma anche della società civile degli esperti nell'accademia quindi questo è veramente una devo dire probabilmente la prima volta dove le Nazioni Unite hanno sviluppato in modo così comprensivo e partecipativo un framework così ampio e poi la cosa speciale anche se posso dire rivoluzionaria diciamo che comprende questo nuovo framework è che mette insieme dei pilastri fondamentali dello sviluppo e diciamo già gli MDG le Millennium Development Goals prima avevano riflettuto e definito lo sviluppo in principalmente in tre pilastri sociale economico e ambientale e diciamo gli SDG riflettono nuovamente questi nuovi pilastri però diciamo quello che più di rivoluzionario ha è che riconosce che al di là di questi tre pilastri ci sono la pace la sicurezza la legalità se così posso tradurre il concetto del rule of law che c'è nel Goal 16 e anche il rispetto dei diritti fondamentali che sono determinanti nel raggiungere questo sviluppo ed è la prima volta che abbiamo un concetto proprio formale anche di sviluppo che riconosce come questi aspetti non siano estragni allo sviluppo prima di tutto sono fondamentali nel realizzare lo sviluppo in queste tre se vogliamo elementi tradizionali dello sviluppo ma anche nel definire che essi stessi la sicurezza la pace il fatto di vivere in uno stato dove ci sia riconosciuta la legalità e i diritti fondamentali dell'uomo faccia parte dello sviluppo quindi lo sviluppo non è solo realizzare degli obiettivi che siano economici sociali o ambientali ma è anche proprio realizzare questi principi relativi all'essere e al vivere in uno in uno stato appunto che sia sicuro e questo in un certo senso è veramente un modello rivoluzionario perché davvero tradizionalmente diciamo è anche molto se si vede la ricerca e anche devo dire lo spazio fatto negli uffici di statistica si è sempre più focalizzato su questi tre elementi e il fatto che ci siano questi STG che sono stati riconosciuti in modo così ampio come diceva il collega prima nell'intervento diventa in un certo senso un patrimonio comune globale che abbiamo come poteva essere la dichiarazione dei diritti umani e questo diventa il nuovo paradigma globale che abbiamo come veramente valore allora diciamo per realizzare fondamentalmente questo framework l'altra cosa fondamentale che si è riconosciuta a livello globale è l'importanza del monitoraggio che non solo deve essere fatto a livello globale ma a tutti i livelli come molti degli speakers prima di me hanno detto già con gli MDG diciamo prima che effettivamente forse in Italia non si è avuto non ha avuto una risonanza come ce li hanno gli STG oggi perché erano stati visti come di nuovo un modello di sviluppo forse più per i paesi in via di sviluppo però già diciamo in quell'ambito a livello globale si è riconosciuto l'importanza di una cultura di misurabilità del progresso quindi portando la statistica più vicina anche alle priorità politiche e come diceva un famoso fisico non è possibile avanzare in un ambito se non riusciamo a misurarlo non possiamo dire se siamo andati se stiamo meglio oggi che prima se non riusciamo a misurare quello che vogliamo avanzare e quindi gli STG sono anche un'opportunità per la statistica ufficiale e il rapporto lo dimostra nella sua complessità e veramente faccio i complimenti ad Angela complimenti a professore Aleva per veramente la comprensività di questo rapporto e anche realizzando quanto difficile sia stato immagino elaborioso il lavoro di mettere insieme tutti questi elementi di statistica delle più svariate ambiti però diciamo anche questo mostra come gli STG porta anche gli uffici di statistica ad uscire dai comportamenti predefiniti di un modello tradizionale anche di statistica che si basa principalmente su analizzare solamente alcuni degli elementi fondamentali economici sociali e anche ambientali ad esempio mi chiedo ho visto nel rapporto dei dati sui sequestri delle specie relativi alle specie controllate di animali e di fauna mi chiedo ad esempio quante volte prima degli STG l'ISTAT sia stato in contatto e abbia pensato di poter analizzare dati di una nicchia così particolare quindi ecco vedo il rapporto anche italiano ma come vediamo anche a livello globale degli STG proprio come un'opportunità per se vogliamo dire anche per gli uffici di statistica per uscire dalla comfort zone dei classici indicatori e quindi di uscire anche dalla comfort zone in termino tematico quindi veramente di analizzare delle nicchie di elementi che sono importanti appunto per le politiche per lo sviluppo ma che magari non sono state sempre fondamentali nella statistica ufficiale ma anche diciamo uscire nel comfort zone relativo al partnership anche appunto Angela ha mostrato l'incredibile lista quanto lunga era di tutte le agenzie di tutti i partner che hanno reso possibile il rapporto e parlavo del e questo è importante non solo per gli uffici di statistica nazionale ma è importante anche per noi come Nazioni Unite perché naturalmente diciamo è importante anche il monitoraggio a livello globale e Angela ha spiegato molto bene tutto il fremo con tutti gli indicatori e a livello globale diciamo ci siamo divisi tra diverse agenzie la responsabilità di rapportare di monitorare alcuni indicatori che appunto la commissione di statistica ha identificato come quegli indicatori che noi dobbiamo usare per monitorare globalmente gli STG e vediamo anche di nuovo sia per noi come Nazioni Unite ma anche diciamo come gli uffici di statistica come gli indicatori per gli STG hanno forniscono anche un'opportunità per rivalutare la qualità della statistica all'interno di processi politici è la prima volta che nella commissione di statistica un paio di anni fa quando la commissione di statistica delle Nazioni Unite ha approvato questo framework che degli indicatori di vedere come l'audience c'era una stanza strapiena dove non solo dove gli statistici diciamo discutevano degli indicatori ma dove una serie di partner politici di società civile eccetera hanno partecipato proprio per mostrare l'interesse che c'è sull'indicatore ed è la prima volta che ho visto più di vent'anni di esperienza nel partecipare alla commissione di statistica di vedere come appunto ci sia stata un'attenzione da parte anche di altri stakeholders al di fuori degli statistici proprio negli indicatori e appunto quindi questa è un'opportunità per diciamo far apprezzare agli elementi più politici e della società civile il discorso della qualità dei dati in un mondo di fake news è importante diciamo che ci siano che gli statistici possano consolidare questa idea della qualità dei dati dove posso dire questa di nuovo rimane anche un'ambizione degli STG e dove Angela alla fine ha presentato questo discorso dei links dove posso dire dove diciamo anche qui forse gli uffici di statistica necessitano forse di uscire più appunto da questa comfort zone dove l'analisi è sempre stata considerata un po' diciamo dagli uffici di statistica in generale ovviamente con diversi toni di grigi nei diversi gli uffici di statistica però l'idea di quanto un ufficio di statistica deve analizzare il fenomeno e non solo descriverlo e credo che di nuovo l'STG dà l'opportunità agli uffici di statistica per prima di tutto interrogarsi su quanto l'analisi deve essere spinta per capire dei fenomeni ma perché alla fine diciamo non sono i numeri che o gli indicatori per sé che possono aiutare la politica ma è proprio la conoscenza che questi indicatori possono portare alla politica che possono far cambiare le politiche e do solo alcuni esempi prima di chiudere di come diciamo questi links potrebbero essere importanti per proprio determinare come avanzare negli STG faccio faccio il discorso della corruzione proprio perché è una cosa di cui il nostro istituto si occupa particolarmente non solo diciamo misurare la corruzione e dire ok abbiamo oggi più o meno corruzione di ieri stiamo avanzando verso il target di eliminare la corruzione per il 2030 ma al di là di questo anche di capire quanto la corruzione determina o compromette il raggiungimento del target sulla salute sull'educazione se ricordo bene l'indagine diciamo che l'Istat ha fatto recentemente sulla corruzione su cui diciamo di nuovo complimenti perché non tanti uffici statistica nel mondo veramente hanno fatto indagini sulla corruzione però mi pareva che ad esempio una delle cose che emergeva era il discorso della salute del fatto che le cure mediche spesso vengono anche follow up e questo viene legato a un discorso della corruzione e abbiamo visto anche in altri paesi come effettivamente uno degli ambiti che è più soggetto alla corruzione non la salute ma anche l'educazione per esempio ecco rispondere a queste domande andrebbe al di là diciamo di appunto tick the box come possiamo dire di dire vabbè abbiamo l'indicatore sappiamo se andiamo meglio o peggio e proprio di analizzare anche questi link e di nuovo per concludere vorrei solo dire per quanto riguarda la goal 16 che è appunto quella dove dove noi ci occupiamo particolarmente siamo i custodian agency diciamo per monitorare 15 degli indicatori globali che si riferiscono a tutta questa sfera di sicurezza pace legalità corruzione e dove diciamo anche appunto la sfida che ci vede davanti nella misurazione di questa di questa goal sappiamo che gli omicini sono in calo e anche in Italia diciamo da quello che capisco insomma diciamo gli omicini sono in calo e anche alcuni dei crimini sono in calo però di nuovo ecco la sfida è di capire dove quello che non misuriamo perché quello che vediamo e che c'è anche nel cuore del goal 16 è l'idea di misurare di guardare il crimine organizzato illicit financial flows il traffico di armi cose che non sono visibili spesso nella statistica ufficiale e quindi è importante che diciamo non cadiamo nel rischio di concludere che alcuni degli elementi ad esempio come la sicurezza come potrebbe essere appunto con l'indicatore degli omicidi che sicuramente diciamo è un indicatore che ci dice molto però diciamo andare al di là anche di misurare elementi ad esempio come il crimine organizzato oggi è diventato molto meno violento e quindi molto meno visibile e quindi anche molto meno visibile nelle statistiche ufficiali quindi se posso lasciare con questo che posso concludere con questo così pensiero di come appunto la prossima sfida e se posso dire appunto la prossima sfida forse anche per il prossimo rapporto italiano sugli STG di appunto cercare di anche analizzare di trovare dei proxy o dei modi per appunto assicurarsi che non che non perdiamo quello che non vediamo grazie ringraziamo Angela me e mi piace molto questa idea della statistica che esca dalla sua comfort zone perché poi insomma immagino qui di avere un pubblico di prevalentemente statistici però per me io in particolare sono una profana però è vero che a volte sembra quasi un mondo un po' a parte per cui non collegato con la realtà e invece ecco per questo vi rinvito a approfondire e leggere questo rapporto perché invece fa capire quanto sia veramente importante leggere un dato e da quel dato arrivare alla realtà e a capire come si possa cambiare la realtà quindi è giusto che insomma questi dati davvero possono aiutare la politica se la politica li leggesse ecco però ecco per esempio ascoltiamo adesso la dottoressa Mara Cossu del Ministero dell'Ambiente e così insomma magari ci può dire come loro leggono questi dati grazie buongiorno a tutti grazie per averci invitato a questo tavolo a cui porto i saluti del direttore della camera che purtroppo non è potuto intervenire è una bella domanda io partirei da riprendendo alcuni spunti che sono emersi negli interventi che mi hanno preceduto innanzitutto la portata rivoluzionaria dell'agenda rivoluzionaria nella misura in cui vedo tre diciamo degli aspetti che sono stati sollevati mi sembrano che siano tre le dimensioni principalmente rivoluzionari applicabili a livello nazionale perché a livello internazionale abbiamo già detto la prima emersa dall'intervento del ministro mercurio è l'integrazione l'agenda spinge le istituzioni a parlarsi che mi sembra la prima rivoluzione possibile e ancora assolutamente indivenire e a maggior ragione il rapporto spinge ulteriormente la struttura già integrata degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile analizzandone le possibili interconnessioni questo a livello nazionale è particolarmente rilevante nella misura in cui la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che abbiamo approvato con il incipe a dicembre 2017 non adotta tal quale la struttura degli obiettivi degli SDGs ma attraverso un percorso di interazione istituzionale sono emerse delle priorità politiche che sono integrate quindi ogni priorità e ogni scelta racchiude più SDGs la lettura dell'interconnessione in una struttura già di per sé particolarmente complessa aggiunge dei successivi livelli di complessità ovviamente quindi la sfida sul campo è ancora più importante questo mi porta a ragionare in termini di adattamento è emerso il tema dell'adattamento sempre dall'intervento del ministro Mercuri un'agenda internazionale è inevitabilmente frutto di un percorso di negoziazione fra tutti gli stati che ne hanno partecipato a livello nazionale il percorso di confronto con le altre amministrazioni centrali ha portato inevitabilmente sul tavolo le priorità che ciascuna amministrazione aveva in quel momento e che proiettava nell'immediato futuro questo ha significato la costruzione di una struttura calibrata sulle nostre sulle nostre polisi prioritarie che intercetta lo sforzo che il sistema statistico nazionale sta facendo in maniera estremamente importante a maggior ragione secondo me la portata rivoluzionaria in Italia è determinata anche dal fatto che questo percorso si intreccia con il percorso degli indicatori per il benessere equo e sostenibile inseriti nel DEF questo è rivoluzionario a livello internazionale riconosciuto in quanto tale due sono diciamo nelle mie piccole esperienze a livello internazionale gli elementi che più ci vengono richiesti come racconto della nostra esperienza nell'ambito dell'attuazione dell'agenda il primo è l'interazione di questa esperienza di costruzione degli indicatori statistici per gli SDGs insieme al Beyond Pill la seconda è la potenza dell'organizzazione della società civile nell'intercettare questo processo e quindi il coinvolgimento che in realtà in questo caso a livello nazionale è quasi un precedere è la società civile è l'ASVIS e tutto il mondo che è dentro l'ASVIS che ci porta un po' per mano a farci delle domande e a provare a costruire una risposta politica a questo a questo scenario dal punto di vista nazionale l'approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è un primo piccolo passo che comunque segna una differenza sostanziale rispetto agli sforzi che erano stati fatti dal ministero dell'ambiente in precedenza la prima esperienza operativa che abbiamo avuto in tal senso è la strategia d'azione ambientale del 2002 che cercava di costruire allo stesso modo in maniera più semplificata un quadro di obiettivi di polisi e di indicatori in grado di descrivere in che modo stessimo andando verso il raggiungimento di quegli obiettivi questa è un'esperienza estremamente diversa ed estremamente più complicata che chiama in campo voci molto più diverse rispetto a quella che potevamo utilizzare nell'ambito delle nostre competenze il passo successivo che dobbiamo compiere sarà quello di affinare il ragionamento nell'ambito di un piano d'azione vero e proprio a livello nazionale dovrà essere costruito questo piano in cui la relazione con gli indicatori per gli SDGs è fondamentale e ci sta dando il rapporto costituisce una base principale da cui partire per la definizione anche degli obiettivi che siano quantificabili e misurabili perché poi la sfida vera è indipendentemente dal fatto che riusciamo a definire degli obiettivi di polisi nazionale che questi obiettivi possano effettivamente essere tracciati e misurati nel tempo questo lo possiamo fare soltanto avendo una base statistica solida frutto del lavoro incredibile che il sistema statistico nazionale e l'ISTAT stanno portando avanti in questi anni e rispetto al quale partiamo in questo senso in attesa dell'identificazione di meccanismi istituzionali formali il ministero dell'ambiente insieme al ministero dell'economia insieme a ISTAT insieme a ISPRA insieme alle istituzioni individuate all'interno del testo della strategia si è informalmente attivato per tentare di costruire una proposta tecnica che potesse essere in qualche modo di supporto a questo percorso l'altra sfida nell'adattamento è l'adattamento per fasi successive quindi dal livello nazionale al livello regionale la legge ci dice che il decreto 152 del 2006 modificato varie volte successivamente ci dice che a valle dell'approvazione della strategia nazionale le regioni devono scusate approvare le proprie strategie regionali entro un anno dall'approvazione della nazionale questa è una sfida enorme per le regioni che hanno le medesime difficoltà al proprio livello istituzionale cioè le medesime difficoltà di dialogo e di interconnessione fra i settori di competenza ci sono a livello nazionale tanto quanto a livello regionale il fatto che il lavoro di Istat abbia una cura così importante sulla territorializzazione degli obiettivi e sulla copertura regionale degli obiettivi scelti per il monitoraggio degli SDGs è fondamentale in questo passaggio perché ci consente di costruire una base informativa comune fra i diversi livelli territoriali e ci consente di parlare e verificare se e quanto gli obiettivi che ci siamo posti possano essere raggiunti da diversi livelli riprendendo lo spunto di Angela il livello urbano in questa in questa questione è altrettanto fondamentale ed è il passaggio successivo che dobbiamo fare è evidente che l'SDG 11 raccoglie in forma integrata una serie infinita di questioni che si pongono a livello di città l'agenda urbana proposta da ASVIS e da la prima costruzione di un set di obiettivi dedicati alle strategie urbane è fondamentale in questo senso ed è una direzione assolutamente su cui è necessario ragionare a livello istituzionale chiudo dicendo l'altra grande sfida che abbiamo di fronte che secondo me chiama a raccolta lo sforzo che il SISTAN sta facendo è il coinvolgimento gli atti di approvazione della strategia prevedono che il Ministero dell'Ambiente curi l'organizzazione di un forum per lo sviluppo sostenibile il forum per lo sviluppo sostenibile in totale sinergia con quello che ASVIS e la società civile già fa per il processo di auto-organizzazione di cui si diceva prima ovviamente ha bisogno dell'accuratezza dell'informazione statistica che il rapporto ci offre per riuscire ad andare oltre il sentito dire fra virgolette cioè ci consente di andare oltre come diceva la dottoressa a me le fake news e provare a costruire anche un percorso di apprendimento della società civile e delle istituzioni rispetto alla qualità e all'effettivo progresso sugli obiettivi che ci siamo posti in questo senso mi sembra il fronte di relazione fra informazione statistica for better life e la costruzione delle ipotesi e delle ipolesi è l'ambito prioritario su cui stiamo provando ad iniziare a lavorare su cui diciamo si apre un mare da affrontare ma mi sembra la sfida del futuro grazie insomma questo rapporto possiamo dire che un po' segna la strada e anche insomma come dire noi siamo facilitati abbiamo tutto questo questi dati e adesso vediamo come appunto ci dà le indicazioni come dire un manuale di istruzioni però appunto vediamo che la statistica e qui chiediamo aiuto alla dottoressa Monica Pratesi presidente della società italiana statistica come la statistica a volte prima la dottoressa mi diceva una cosa che mi ha colpito che mettere come dire nero su bianco dei dati esclude magari alcune cose e quindi insomma fare appunto una statistica a volte non è esattamente la rappresentazione precisa della realtà e quindi insomma chiedo a lei come si può come si possono usare questi numeri come si possono misurare queste queste dimensioni esatto grazie che sono state evocate in molte occasioni durante gli interventi precedenti io sinceramente avevo preparato qualche schema per rendere più veloce l'esposizione non so se è possibile vederlo dovrebbe essere lì comunque nel frattempo intanto prendo l'occasione per ringraziare tutti per avermi dato l'opportunità di condividere un punto di vista che finora è stato diciamo forse presente in sordina ma non esplicitato che è il punto di vista del portatore di interesse due punti ricercatore ricercatore in statistica perché certo la definizione degli SDGs il loro calcolo la loro diffusione ha delle platee che vanno dai cittadini la società civile i policy makers cosiddetti decisori in senso generale ma ha un impatto importante anche sul mondo della ricerca scientifica abbiamo chiuso due settimane fa sì la riunione biennale che è la società italiana di statistica organizza un convegno scientifico l'ultimo è stato a Palermo molti di noi erano presenti Enrico c'era il presidente alleva c'era io c'era ovviamente come presidente della società ma anche molti ricercatori istat questo per dirvi che per dirvi che c'è un linguaggio comune sotteso ai risultati che abbiamo visto proiettati e discussi finora che è la ricerca in statistica con la S maiuscola magari i dati che abbiamo visto sono le statistiche diciamo così in senso lato utili e necessarie per definire quello che mi sembra essere tutte le volte che si parla di SDGs più chiaramente identificato come un po' fumoso bene comune ma che piano piano comincia a essere sempre più chiaro sia sui tavoli internazionali come diceva Sergio Mercuri che per le Nazioni Unite che a livello nazionale nei vari ambiti addirittura nazionale e poi regionale quindi queste 17 dimensi questi 17 obiettivi stanno in qualche maniera definendo un obiettivo generale comune su cui noi ci possiamo muovere ora come faccio a scorrere sì grazie con questo si muove questo fantastico grazie allora il mio obiettivo è farvi vedere un caso concreto nel quale si sostanzia poi la serie di ragionamenti che farò Angela ha già richiamato quali sono diciamo contesto obiettivi e criteri che la definizione degli indicatori SDGs richiamavano quindi su questo è ovvio che non è necessario dire altro tutti sappiamo che devono essere semplici ci deve essere un consenso ampio coerenti con i sistemi informativi nazionali e internazionali con fonti stabili e riconosciute disaggregabili e poi dirò cosa vuol dire secondo me universali basati su outcomes su esiti non su input output o fumosi target insomma devono essere sugli esiti e gestiti da un'istituzione incaricata in questo caso l'ISTAT ora cosa può fare la statistica con la perdonatemi con la S maiuscola la comunità scientifica come reagisce gli statistici come reagiscono a questo intanto ci sono dei risultati splendidamente raggiunti e io non posso che dire bravi le fonti sono state individuate le migliori impostazione di nuove acquisizioni di dati è stata fatta il processo di produzione di dati è affidabile addirittura alcune fonti possano essere legate fra loro già lo sono quindi integrate e questo è importante le analisi sono fatte con metodi affidabili sono utili sì tutto questo è stato fatto però permettetemi di dire che c'è un challenge che la ricerca raccoglie e che deve vedere la partecipazione del mondo accademico dell'istat certamente e delle istituzioni perché non possiamo fermarci qui è vero gli indicatori sono scelti e definiti nella loro ossatura generale dai decisori dai politici però corre obbligo che i ricercatori sottolineino che una volta definiti gli indicatori vanno fatti vivere e gli scenari cambiano il mondo cambia velocemente quindi vanno rivisti adeguati e non si può non cogliere le suggestioni che proprio dalla scorsa riunione scientifica della SIS io porto qui a voi si tratta di ambiti complessi quindi questo è sfidante perché molte volte gli indicatori sono di per sé multidimensionali cioè testimoniano dell'evoluzione di varie dimensioni dei target e allora c'è bisogno di metterli in contesto di relativizzarli agli ambiti e c'è bisogno di correre il rischio della sintesi che era quello che mi richiamava prima il moderatore di questo dibattito tutte le volte che sintetizziamo noi perdiamo qualcosa questo è inutile nascondersi dietro a un dito è così serve però per avere una strada tracciata e allora diventa importante che complessità relativizzazione e sovrariduzione come molti statistici sociali penso alla Filomena Maggino alla nostra riunione della società hanno messo in evidenza sono tre ambiti che devono essere tenuti presenti tenuti presenti e importanti per raccordare i dati necessari e per definire i livelli di osservazione e i domini di interesse e le stratificazioni necessarie nel rapporto c'è veramente una ricchezza di possibili chiavi di lettura che spaventa quasi però è necessario essere consapevoli quando si arriva all'interpretazione che non tutti gli indicatori micro insomma formano un indicatore macro che le aree territoriali vanno individuate e l'attenzione alla georeferenziazione è stata cruciale a questo proposito perché i livelli di governo possano anche cambiare e servono per intervenire i livelli di governo ma per leggere il fenomeno è importante anche declinarlo secondo il grado d'urbanizzazione le periferie e l'età e il genere e poi si tratta di indicatori che presentano molte dimensioni e le dimensioni vanno individuate non sono mica ipso facto individuate o una volta per tutte si tratta di un processo d'apprendimento dall'esperienza che deve essere un processo che studia perdonatemi il bisticcio con un approccio concreto e sostenibile i processi che sottostanno ai fenomeni ieri il professor De Rita parlava di ibridazione di approcci di studio e questo è importante che avvenga è già avvenuto ma deve continuare cioè non vorrei che si corresse il rischio di aver confezionato una serie di possibili scatole dentro le quali c'è un toolbox di indicatori che rimangono fermi da qui all'eternità è vero che si deve permettere una confrontabilità ma il mondo della ricerca questa domanda se la fa dobbiamo fare in modo che ci sia una continua attenzione alle dimensioni e tecnicamente qui scusatemi ma d'altra parte siamo tutti tecnici ci si può intendere la misurazione di queste dimensioni deve essere fatta con attenzione alla loro scambiabilità declinata a livello territoriale e alla loro sostituibilità questo con riferimento alla povertà si vede bene e poi le soglie tutte le volte si dice che abbiamo un obiettivo vuol dire che ci mettiamo una soglia molte volte quantitativa altre volte no però sempre soglia è e la soglia per definizione è una tagliola stai o di qua o di là ma siamo poi così sicuri che tutti i fenomeni debbano sottostare a questo regime dell'essere a sinistra e a destra della soglia in questione forse in talunni casi si parla di gradualità forse la misura deve essere tale da essere effettuata con soglie graduali che misurino anche la distanza dal target ora scusatemi c'è un refuso nello schema e poi molte dimensioni una sintesi la sintesi piace ma la sintesi fa perdere informazioni e poi che finalità può avere una sintesi per ogni goal di tanti target testimoniati da altre tanti indicatori ci serve per fare una graduatoria la graduatoria è quello che serve per l'intervento oppure l'intervento va dettagliato secondo le singole dimensioni come testimoniate dai singoli indicatori semplici comprensibili e utili scelte in precedenza la sintesi prevede l'esistenza di pesi questi pesi sono definiti in modo esogeno chi ha detto che una dimensione debba pesare il doppio il triplo o meno di un'altra io faccio lo statistico di mestiere quindi sono abituata a prenderle queste decisioni combinazione lineare magari che minimizza l'accuratezza massimizza scusatemi l'accuratezza minimizza la variabilità e è fatto ma qui so che in Istat c'è molta ricerca al proposito ma è necessario anche che ci sia una trasparenza metodologica come è stato richiamato anche nella presentazione del rapporto su questo e quindi anche un'assunzione di responsabilità e di credibilità poi si può sintetizzare anche con modelli cioè definendo il modello che descrive la relazione fra le dimensioni e sintetizzare con modelli complicatissimi ve lo devo dire ma anche qui apprezzo di una compressione dell'eterogeneità e poi comunque non avendo subito chiaro com'è il benchmarking indicatori micro e macro non si ottengano l'uno dall'altro insomma sommandoli e come li mettiamo insieme allora e poi quello che vale a livello nazionale poi a livello territoriale più basso può darsi che non valga più c'è un problema tecnico che ha un nome bruttissimo che si chiama problema dell'unità reale modificabile che è un problema statistico che forse adesso qualcuno sta cercando di risolvere ma dice se c'è relazione fra fenomeni a livello regionale non è detto che quella stessa relazione rimanga a livello provinciale non è detto che sia quella a livello comunale a livello tra stati poi quindi c'è un'eterogeneità interna di cui noi dobbiamo tener conto sono tutte sfide e io mica ho la soluzione a tutte queste cose però mi corre obbligo dirlo è il mio contributo a questo dibattito poi riguardo al goal numero uno la povertà che scusatemi ma la sua importanza ce l'ha allora qui la ricerca passata finanziata anche dalla commissione europea alla quale io ho partecipato il gruppo di lavoro di Pisa Firenze Siena del centro da GUM ha partecipato ha trovato alcuni risultati tra virgolette ha cercato di rispondere più che altro è nucleato quali sono i quesiti a cui si deve rispondere e allora per quello che riguarda le aree tematiche sulle dimensioni degli indicatori scambiabilità e sostituibilità sono importanti il mapping è importante la granularità territoriale anche l'integrazione tra fonti le soglie la logica fazzi indicatori compositi perché no ma allora ragioniamo su ponderazione su approcci basati sul modello e poi se si vuole spacchettare il dato per domini di studio che siano anche improvvisamente necessari e quindi non pensate a priori nella pianificazione della raccolta dei dati e nelle fonti usate ci sono metodi di previsione territoriale che si chiamano stime per piccole aree che possano essere anche in questo caso usati ora vi porto qui velocemente un esempio qualche risultato sui bambini sulla povertà dei bambini anche questo è un lavoro fatto a seguito del networking internazionale in cui ci troviamo a lavorare forse non so come si fa a tornare indietro quindi non torno indietro però ecco ecco qua tutti sappiamo che cos'è la percentuale di individui che vivono in famiglie con reddito al di sotto della linea di povertà la linea di povertà è la soglia fissa sul reddito del 60% del reddito mediano qualche percentuale vi fa capire che il problema di come vivono i bambini in quali famiglie se queste famiglie sono povere è un problema che in Italia nel 2009 quindi qui anche se diciamo è stato pubblicato recentemente questo lavoro è un lavoro basato su dati ormai solidi e abbiamo provato a rappresentare le dimensioni della povertà dei bambini non solo quella monetaria cioè quella legata al reddito della famiglia ma anche lungodimensioni che fossero la sicurezza legate all'organizzazione del gioco l'alimentazione le condizioni finanziarie della famiglia l'essere al sicuro shelter avere una casa adatta la partecipazione sociale la salute fisica come vedete in questa tela di ragno ci sono rappresentati i percorsi di tre ragni un ragno del nord uno del centro e uno del sud Italia comparti e vedete che descrivono delle ragnatele molto diverse e non solo sono diverse e testimoniano che poi il fattore monetario misurato questa volta non con la soglia fissa ma con una attenzione quello che succede attorno alla soglia quindi con una logica fazzi è preponderante si vede bene che questo è importante però l'importanza del fattore monetario cambia nelle diverse aree e cambia anche il ranking dei domini non monetari se visti per macro regioni e questo è un indizio importante di quanto vi dicevo prima non erano idee mie insomma si vede sui dati questo è vero anche che sottese a molte di queste dimensioni ci sono le spese la capacità di spesa della famiglia perché è chiaro che ci si nutre bene se abbiamo possibilità la cura del corpo è tale soddisfacente se abbiamo possibilità però è anche vero che forse va esplorato un altro ambito da qui l'ibridazione degli approcci forse un po' più antropologico perché qui i dati di indagine non ci permettano di identificare i bisogni come la famiglia identifica i bisogni poi cerca di realizzarli con i mezzi che ha ma per questo forse è importante leggere il dato con un'altra spaccatura un altro break che è quello che si può leggere tenendo in considerazione il livello di istruzione del capofamiglia e allora di nuovo ecco delle altre ragnatele fatte a seconda che il ragno sia un capofamiglia istruito o in maniera alta media o bassa di nuovo la logica fazzi monetaria le ragnatele sono diverse qui si vede bene e forse la capacità di scelta e decisionale legata al livello di istruzione ha un suo ruolo allora e poi mi chiedo perché ho detto anche troppo la sfida che questo rapporto lancia è certamente sugli aspetti sostanziali e di questo io sono molto contenta e consapevole perché nella mia idea si sta cercando in qualche modo di definire un bene comune perché questo si pensa globalmente però poi bisognerà agire localmente quindi ci dobbiamo attrezzare anche con le statistiche per questo molto c'è da fare certamente la statistica con la S maiuscola il suo ruolo ce l'ha cioè non ci dimentichiamo che i metodi sono fatti apposta perché il famoso sonetto di Trilussa del mezzo pollo sia storia remota passata perché ora la varianza si conosce tutti e non solo la varianza ma anche gli approcci basati sui modelli e i risultati che la ricerca si sente comandata a portare e a mettere a fattore comune grazie la ringrazio e adesso passerei la parola al dottor Giovannini scusi che stavo pensando passerei la parola alla società civile direi perché finché è stata più volte evocata questa mattina e quindi insomma adesso sentiamo come la statistica come gli SDGS possono essere utilizzati possiamo utilizzare questa parola dalla società civile e quindi prego grazie mille buongiorno a tutti grazie veramente per questo invito per discutere qualcosa che è molto vicino appunto a quello di cui mi sto occupando da oltre due anni tra l'altro vorrei richiamare il titolo di questa conferenza che parla di decisione consapevole e io tornerò su questo anche nelle mie considerazioni che dividerò in due parti una è più di natura statistica essendo comunque docente di statistica economica e appunto un po' di anni in Istat l'ho passati ma poi vorrei fare delle considerazioni se volete più di natura politica e lo dico con grande rispetto di tutte le componenti però vorrei ricordare che l'agenda 2030 impone non solo tutte le cose che sono state ricordate oggi ma una forte radicalità perché è evidente che il modello business as usual non ci porta non solo l'Italia ma l'Europa e il mondo a traguardare i sustainable development goals gli SDGs anzi quello che vediamo intorno a noi è una crescente un crescente insieme di segnali della insostenibilità della nostra condizione quello che vediamo in questi minuti in queste ore in questi giorni in Italia in Europa è la dimostrazione che grande scelta è stata fatta da chi ha indicato i quattro pilastri dello sviluppo sostenibile non i tre come per tanti anni sono stati ricordati e cioè l'economia la società l'ambiente e le istituzioni perché oggi le istituzioni sono a rischio a causa dei rischi di natura economica sociale e ambientale allora quando si parla di integrazione il vero rischio di tutto il lavoro che ruota intorno agli SDGs è che questa parola resti una parola e non venga colta come un cambiamento radicale del modo con cui approcciamo i problemi l'ASVIS riunisce oltre 200 soggetti della società civile italiana oggi è la più grande associazione rete della società civile mai creata in Italia ed è lo dico con grande piacere un'iniziativa unica a livello europeo mondiale e come è stato ricordato appunto è riconosciuta come tale a livello internazionale comincio con le questioni di natura statistica o meglio di possibili miglioramenti facendo veramente enormi complimenti a chi a Angela Ferruzza e al suo team ma all'Istat in generale e al Sistan per il lavoro svolto che tra l'altro coglie una delle primissime raccomandazioni che come ASVIS facemmo un anno e mezzo fa e quindi è un lavoro complesso è un lavoro che trasforma tutti i dati che come è stato ricordato anche dal presidente alleva vengono rilasciati ogni sei mesi in un rapporto di sintesi vista la qualità dell'ufficio stampa dell'Istat sono sicuro che oggi sui siti e forse domani su alcuni giornali il rapporto verrà citato ma il problema non è quello che succede oggi e domani è quello che succede dopo domani perché se i giornalisti se la stampa se l'opinione pubblica prenderà questo rapporto come uno dei tanti rapporti meritori che l'Istat pubblica che guadagnano spesso l'onore della cronaca per un giorno due giorni e poi vengono messi da parte perché non vengono usati per prendere decisioni consapevoli allora anche questo sforzo rischierà di non produrre i risultati desiderati ed è qui dove mi sento di fare alcune osservazioni in nome di quella radicalità di cui ho parlato prima dopo questo sforzo straordinario io inviterei l'Istat a mettere le icone dei goal in tutti i comunicati stampa rilevanti per i diversi goal perché se questa scelta è una scelta internazionale europea nazionale culturale dobbiamo riconoscere che tantissima gente non ha mai sentito parlare degli SDGs non ha mai sentito parlare di quello di cui oggi parliamo e quindi ogni soggetto ha il dovere se vuole di contribuire a diffondere questa agenda globale e quale miglior modo per diffondere l'agenda globale che usare quelle icone che sono usate in tutto il mondo in ogni singolo prodotto statistico o non statistico che il sistema statistico nazionale produce questo aiuterebbe anche a capire le connessioni tra i vari goal secondo aspetto la complessità lo ha già ricordato Monica ma tutti gli interventi come si fa a affrontare la complessità e ve lo dice una persona che appunto da due anni e mezzo si rompe la testa su questi aspetti Asbis ha sviluppato degli indicatori compositi usando i dati Istat altre organizzazioni in giro per il mondo fanno altrettanto perché è evidente che assorbire un rapporto come questo o uno come nel film Matrix gli mettono un dischetto adesso una chiavetta USB e straordinariamente assorbe tutto oppure è difficilissimo da assorbire l'Istat ha fatto una scelta importante la pagina 14 e 15 del rapporto e Angela l'ha mostrato con questi grafici che ci aiutano a capire se stiamo migliorando peggiorando migliorando molto peggiorando è una buona scelta che però non coglie evidentemente sintetizza al massimo e naturalmente è un tentativo appunto di comunicare naturalmente quello che non ci dice è la tendenza negli anni perché ci coglie praticamente la variazione insomma nel periodo ma è un passaggio utile importante che però richiede ugualmente un po' di skill statistici per essere compreso e alla domanda spesso che mi viene fatta da giornalisti ma non solo ma insomma alla fine l'Italia sta migliorando o peggiorando gli devi rispondere che è complicato che devono dedicarci un po' di tempo per capire perché tentare di rispondere sì o no a quella domanda è un modo stupido di affrontare la questione non è un modo da homo sapiens sapiens perché come ha detto la presidente della RAI nell'evento finale iniziale del festival dello sviluppo sostenibile l'agenda 2030 è un grande dono perché è qualcosa di molto complesso e come tale ci obbliga a un pensiero complesso e come tale ci obbliga a riconoscere che nessuno di noi ha tutte le soluzioni e quindi ci obbliga a cooperare che pensiero complesso è bellissimo ma è un pensiero complesso e oggi ci confrontiamo con un mondo non solo dei media che invece cerca disperatamente di stringere di in 140 o 280 caratteri e allora questo mi porta a una seconda considerazione la complessità nell'ultimo parte nell'ultimo capitolo del rapporto si prova ad analizzare i metadati cercando attraverso un approccio semantico di io preferirei suggerirei di guardare quello che invece è stato fatto e pubblicato su Nature su Science che cerca non di guardare semplicemente all'analisi testuale dei metadati ma cerca di capire quali dei goal o meglio dei target sono tra loro contraddittori sinergici oppure indipendenti perché è questo che la politica va cercando perché una delle reazioni immediate a quello di cui stiamo parlando è troppo complicato quindi via parliamo di qualcos'altro e poi seconda opzione alcuni colleghi ma se tutto dipende da tutto allora come faccio a decidere beh non è vero che tutto dipende da tutto e queste analisi appunto pubblicate aiutano a capire che non tutto dipende da tutto che sì gli incidenti stradali dipendono naturalmente dalle condizioni atmosferiche ma non dipendono necessariamente da un altro dei tanti target dell'agenda 2030 quindi il mio suggerimento è di non inseguire un'analisi appunto testuale dei metadati ma di utilizzare gli schemi pubblicati su Nature e su Science secondo tema la tempestività stavo guardando le slide che Angela ha man mano che le faceva vedere 12 degli indicatori che lei ha scelto per le sue slide sono aggiornati al 2017 13 al 2016 15 al 2015 e poi ce n'è qualcuno al 2014 al 2013 questo cambia il dibattito politico? no cioè il fatto di presentare evidenze troppo lontane nel tempo già di per sé spinge molti a occuparsi di altro perché? perché la tempestività sembra una condizione fondamentale un po' di ignoranza anche qui perché alcuni fenomeni cambiano lentamente quindi i dati dell'anno precedente non è che fanno una grande differenza qui c'è comunque bisogno di fare uno sforzo di stime anticipate e l'Istat ha dimostrato con il rapporto BESS nel DEF di saperlo fare questo sforzo certo non lo può fare su centinaia di indicatori ma il mio incoraggiamento è quello di lavorare di più sul cosiddetto now casting soprattutto sulle tematiche ambientali e sociali e questo mi porta al tema della tempestività o meglio della cadenza con cui questo rapporto o gli aggiornamenti Istat verranno resi disponibili visto che parlo a nome della società civile e visto che quest'anno e lo faremo l'anno prossimo lo abbiamo fatto anche l'anno scorso organizzeremo il Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile che quest'anno ha avuto 700 eventi in tutta Italia è un peccato che il rapporto esca quando il festival è finito e quindi il festival dopo è un po' più complicato per varie ragioni ma la domanda che pongo è che sarebbe molto importante invece che un prodotto del genere esca ad aprile perché avrebbe un megafono straordinario per essere diffuso visto che poi gli eventi si tengono in tutto il territorio nazionale il tema della disaggregazione territoriale è già stato citato quindi non ci non mi ci soffermo ma questo è un elemento molto importante ci tornerò successivamente da un punto di vista politico come già stato ricordato ma diciamoci la verità se anche noi avessimo tutti i dati aggiornati al 2017 ma veramente questo cambierebbe il tono del dibattito politico? No eh? Perché no? Ce ne possono essere tante di motivazioni ma una delle motivazioni che io ho scoperto in questi due anni è che non riguarda il futuro ma riguarda il passato e i politici e i media sono interessati molto a discutere quello che accadrà non quello che è accaduto e questo è un problema molto serio per la statistica ma non solo per la statistica anche per la ricerca che si risolve in due modi fondamentalmente il primo è quello di sviluppare modelli che consentano di fare delle valutazioni sul futuro l'abbiamo fatto nel rapporto dell'anno scorso insieme alla fondazione Mattei lo faremo anche quest'anno se ci riusciamo ma è l'idea di usare modelli per discutere come stiamo andando in termini prospettici e come le eventuali politiche possono cambiare i trend futuri perché la differenza fondamentale rispetto a tutte le altre agende è che abbiamo dei target fissati non per tutti i 269 target ma in molti casi sono target quantitativi fissati e raramente si ricorda che 22 dei 169 target sono al 2020 non al 2030 e quindi uno sono i modelli l'altra soluzione è la distance to target come ricordava prima e su questo Monica e su questo c'è bisogno di un investimento statistico certamente l'Ocse l'ha fatto è stata coperta di critiche da parte di alcuni per motivi soprattutto politici perché distance to target mostra evidentemente quanto noi presumibilmente avremo di probabilità di raggiungere l'obiettivo se guardiamo gli indicatori di educazione abbiamo fatto grandi passi avanti Angela ricordati infatti siamo dove l'Europa era dieci anni fa ripeto siamo dove l'Europa era dieci anni fa e siamo terribilmente lontani dai target anche se abbiamo migliorato questo è il rischio di andare a guardare gli indicatori del passato sganciati dai target e questo è un rischio molto forte nella comunicazione ma soprattutto è una grande sfida per la statistica per la metodologia quindi il mio invito è quello di lavorare con l'accademia il più possibile per provare ad affrontare questo tema della distance to target in molti casi questo richiede una decisione politica cioè la fissazione ai target quantitativi alcuni di quali sono tra l'altro definiti a livello europeo è già stato ricordato il problema dell'opportunità della relazione con il BES questo set di indicatori per molte persone sono sicuro quando le vedranno chiederanno ma qual è la relazione con gli indicatori BES ma che c'è cioè quali dobbiamo seguire nessuno dei due continuiamo a seguire il PIL sono sicuro che molti reagiranno così e allora la necessità di spiegare le relazioni tra SDGs e BES che sono fortissime anzi come è stato detto è un vanto dell'Italia di essere partiti prima ancora che gli SDGs venissero definiti ma questa è una sfida di comunicazione non banale bisogna ripetere la diffusione di questi dati pubblicare un rapporto all'anno non va bene bisogna riuscire a riportare soprattutto i media a questi temi e noi certamente svolgeremo un ruolo come ASVIS su questo ma fatemi arrivare alla questione della politica perché poi noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ma servono decisioni politiche a che punto siamo e questo inciderà in qualche modo anche sul futuro di questo lavoro seguendo la nostra indicazione il presidente del consiglio Gentiloni l'ex presidente del consiglio Gentiloni ha creato questa commissione per lo sviluppo sostenibile a Palazzo Chigi che deve però essere avviata e soprattutto bisogna evitare come è successo un piccolo tentativo nelle settimane scorse di cancellarla speriamo che appunto questa commissione venga a questa commissione venga data attuazione il prima possibile così come ad altri impegni che alcune forze politiche quasi tutte hanno preso nei confronti dell'ASVIS e quindi della società civile italiana il Parlamento ha creato questo intergruppo parlamentare secondo una delle nostre proposte sullo sviluppo sostenibile può diventare un importante punto di riferimento per il sistema statistico nazionale essendo un intergruppo e formato da persone di tutte le forze politiche ma può essere un modo per portare questi temi molto più all'interno del Parlamento giornalisti con la stampa abbiamo avuto grandissime difficoltà in questi due anni e mezzo non tanto a parlare del singolo problema ma a cogliere la complessità con il festival abbiamo fatto un grosso salto di qualità nel coinvolgimento dei giornali ma siamo ancora distanti per questo cominceremo a fare corsi per i giornalisti e per nelle scuole di giornalismo poiché la scuola nazionale di statistica è stata cancellata durante il dal governo Renzi e speriamo di poter collaborare insieme per lavorare su questi temi così come nelle scuole e la buona notizia è che la scuola nazionale di amministrazione mi ha chiesto di avviare un filone di formazione nel settore pubblico sul tema dello sviluppo sostenibile e quindi ragioneremo in questi giorni in modo da far partire prima della fine dell'anno dei corsi addirittura l'idea è quella di avere un diploma in sustainability manager per le amministrazioni centrali poi vedremo quelle locali in maniera tale da sensibilizzare anche le pubbliche amministrazioni questo è un campo su cui speriamo con Istat di poter collaborare il tema delle regioni è stato sollevato con la conferenza delle regioni che è uno dei membri dell'ASVIS focalizzeremo il nostro prossimo rapporto annuale che verrà pubblicato il 4 ottobre alla Camera dei Deputati presentato sui temi territoriali e sulle città insieme dunque alla conferenza delle regioni e a Lanci un altro dei membri ASVIS che finalmente ha fatto partire il coordinamento delle città metropolitane per lo sviluppo sostenibile proveremo a utilizzare al massimo le informazioni che sono qui rese disponibili ma appunto come è stato ricordato il tema è politico di nuovo per questo proporremo alle regioni di fare come gli stati stanno facendo in questi giorni le regional voluntary reviews invece che le national voluntary reviews che si stanno facendo a New York in questi giorni per indurre le regioni e forse anche le città a ragionare in questi termini arrivo alla conclusione con due considerazioni la prima riguarda la dimensione internazionale e poi la dimensione nazionale il rapporto data revolution che ebbi l'onore di coordinare per le Nazioni Unite che aveva tantissime idee in parte è in fase di attuazione a livello internazionale ci sono tanti avanzamenti ma ci sono anche tantissimi ritardi nella applicazione di molte di quelle raccomandazioni una la vorrei sottolineare perché ha delle implicazioni potenziali anche per l'Italia e cioè l'uso di dati non prodotti dalla statistica ufficiale ma ciò nonostante di ottima qualità su alcune aree in particolare su alcuni goal su cui la statistica ufficiale non si è come diceva Angela Me applicata finora ci sono tante fonti che potrebbero essere utilizzate ma naturalmente vanno validate dal punto di vista della qualità e quindi una sfida secondo me degli istituti di statistica ma anche in Italia è avviare una collaborazione con produttori non ufficiali non partecipanti ma vincolandoli obbligandoli a seguire gli standard della statistica ufficiale la seconda considerazione riguarda l'Europa nelle prossime settimane dovrebbero essere decisioni importanti che riguardano tutti questi aspetti entro la fine dell'anno avremo un position paper della commissione europea su come inserire gli SDGs in tutte le politiche europee il ministro Mercuri sa quanto faticoso sia questo processo abbiamo avuto uno dei migliori eventi del festival su questi temi la rete europea dell'ASVIS chiamiamole così cioè della società civile proprio in questi giorni sta mandando lettere ufficiali alla commissione e agli altri organismi in maniera da realizzare quello che è stato indicato ma ci saranno delle decisioni da prendere nei prossimi mesi ultima considerazione e qui metto il cappello invece del presidente di presidente del board europeo che sovrintende al funzionamento dei sistemi statistici nazionali e del sistema statistico europeo come presidente dell'ESGAB come abbiamo sottolineato nell'ultimo rapporto il contesto culturale in cui tutto questo lavoro si colloca non è un contesto favorevole dobbiamo dircelo è un contesto in cui fake news stanno proliferando e non a caso la task force europea sul tema delle fake news ha chiesto agli istituti di statistica di avere un atteggiamento molto più proattivo non semplicemente difensivo è uno dei temi su cui ci concentreremo sul rapporto di quest'anno ma sappiamo che in alcuni in alcuni paesi e non sto parlando solo di paesi europei la statistica ufficiale è sotto attacco in termini di indipendenza e questo è una questione che richiede un modo molto più elevato di vigilanza anche da parte dei media la governance europea utilizza tantissimo i dati statistici e speriamo anche gli indicatori di SDGs l'indipendenza degli istituti di statistica va difesa in tutti i luoghi in tutte le condizioni anche alla luce del nuovo codice europeo della statistica ufficiale varato alla fine del 2017 e del nuovo regolamento statistico che ad esempio impone procedure trasparenti e rispettose del divario di genere nella nomina dei presidenti e gli istituti di statistica e questo è un qualcosa su cui è importante vigilare in tutti i paesi perché il regolamento non necessariamente viene seguito come ESGAB siamo dovuti intervenire nel caso della nomina di un presidente o di più presidenti degli uffici di statistica dei lender tedeschi perché la procedura che era stata seguita non era appunto coerente con quello che prevede il regolamento lo dico perché il tema della governance più questi dati crescono più è importante e quindi sta a tutti noi vigilare sul modo con cui funzionano gli istituti di statistica la statistica è un bene pubblico assoluto e più questi dati diventano importanti e più lo è e quindi anche da questo punto di vista è importante che quelle decisioni consapevoli a cui richiama l'agenda di questa il titolo di questa conferenza siano veramente praticate ed è compito di tutti noi far sì che questo venga realizzato grazie ecco ringrazio ringrazio il dottor Giovannini a cui se posso suggerire oltre che i corsi per giornalisti io inserirei lo sviluppo sostenibile nelle scuole dove si parla pochissimo di sviluppo sostenibile nei licei nelle scuole ma già proprio dalle scuole elementari è proprio una cosa partire dal basso e saluto subito la dottoressa Pratesi che ci deve salutare deve scappare e la ringrazio tantissimo grazie da parte mia grazie e passo la parola alle conclusioni al dottor Monducci responsabile del dipartimento statistica che ha prodotto tutto ciò grazie molto rapidamente c'è una plenaria che forse è cominciata non lo so direi che dobbiamo correre due parole io ho preso tantissimi appunti la qualità della tavola radonda secondo me è stata eccellente nel senso gli stimoli anche in maniera molto coordinata da un punto di vista dei temi quindi le persone hanno dato effettivamente dei contributi molto pertinenti che si innescano in una situazione diciamo di crescita della capacità dell'Istat di dare anche risposte alle esigenze di misurazione e di monitoraggio delle polisi io quindi chiuderei tenendo diciamo rassicurando tutti che faremo tesoro di questi orientamenti di queste indicazioni questo è un rapporto che chiaramente si posiziona all'interno della strategia dell'Istat di produrre rapporti tematici complessi ne abbiamo fatti tanti quindi da un punto di vista diciamo dell'impostazione non è una novità la novità è il fatto di aver adottato un framework internazionale molto complesso perché parliamo di tantissimi indicatori di avere sviluppato una piattaforma tra l'altro la piattaforma interattiva diciamo interrogabile sarà disponibile dentro una settimana mi sembra ok oggi c'è la disponibilità di dati diciamo in forma tabellare standard stiamo sviluppando in conclusione questa piattaforma più interattiva che dovrebbe come diceva Enrico ma anche altri aumentare la fruibilità di queste informazioni quindi la capacità di interrogazione soltanto un punto a proposito proprio del percorso evolutivo lunedì ci sarà la terza riunione del tavolo tecnico che è stato citato dalla collega del ministero dell'ambiente per la definizione degli indicatori cioè del sotto insieme di indicatori di sostenibilità per il monitoraggio della strategia nazionale quindi è evidente che ci sono diciamo dei meccanismi di adattamento da generare però quello è un driver importante c'è una delibera del Cipe che ha definito anche la governance noi abbiamo deciso collettivamente di andare avanti nei lavori tecnici in attesa che diciamo si formi il quadro di governance che è previsto dalle norme in modo tale poi da diciamo essere in una posizione di vantaggio rispetto al policy making nel momento in cui ci sarà bisogno di chiarimento anche e una cosa interessante chiudo è il fatto che per questo tipo di attività abbiamo adottato in maniera diciamo condivisa il framework utilizzato per il BES per la commissione degli esperti che ha definito i 12 indicatori BES che poi sono monitorati dai documenti di economia e finanza i criteri sono gli stessi sostanzialmente i principi ispiratori della selezione sono gli stessi c'è un dibattito in corso ovviamente perché ci sono due schemi che poi interagiscono uno è questo degli SDGs internazionali escalati fino a livello territoriale che rappresentano il rapporto ISTAT e l'altro sono esigenze informative aggiuntive derivanti dalla specificità della strategia nazionale questo è un tema chiaramente di dibattito perché effettivamente non tutti gli indicatori sono prodotti quelli che sarebbero necessari però è un elemento di crescita del sistema io penso che personalmente come abbiamo verificato in altre situazioni il fatto che ci sia un riconoscimento formale di un framework statistico alla base della valutazione delle politiche rappresenti un elemento di crescita importante anche su aspetti statistici di sintesi di analisi perché chiaramente poi questi indicatori vanno anche interpretati e contestualizzati in questo caso appunto l'esperienza della legge di bilancio la riforma della legge di bilancio è stata assolutamente illuminante e sta funzionando nonostante le difficoltà che abbiamo grazie a tutti ringrazio in particolare i partecipanti della tavola rodonda e anche i colleghi istat che hanno prodotto questo rapporto in tempi e modi assolutamente non stavamo nella comfort zone come dire infatti questo termine ricorreva insomma io non mi ci riconoscevo tantissimo grazie a tutti 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 grazie a tutti